Cerchiamo di capire quali sono le regole della scuola. Proprio mentre eravamo in Onda Ring ieri sera e il 64% delle 2200 telefonate che abbiamo ricevuto, mi pare, al nostro sondaggio diceva no alla mascherina a scuola, praticamente come il dato scientifico, il Vertice con le regioni, insieme al governo, decideva no alla mascherina a scuola. Come? La temperatura la misurate voi se è superiore a 37,5 il ragazzo, il bimbo, sta a casa. Ci sono tutta una serie di percorsi, la mascherina si indossa nel momento in cui si entra o ci si muove in corridoio per andare al bagno, per andare alla mesa, si deve comunque mantenere la distanza di un metro e via dicendo. In classe si può non indossare, in condizioni di staticità, ogni ordine grado, ogni età, ogni scuola, in condizioni di staticità si può non indossare se c'è la distanza di un metro. Dovremmo domandarci perché allora dobbiamo ordinare 2.400.000 banchi monoposto, 400.000 di questi hanno le rotelle, spendiamo miliardi, arriveranno gli ultimi forse a fine di ottobre, quando allora a questo punto anche i banchi uniti, se i ragazzi, i bimbi, stanno a distanza giusta di almeno un metro, forse con la mascherina tutte le cinque ore, ma allora questo certo sarebbe molto difficoltoso, potevano stare, ma comunque non importa, possono stare in classe senza mascherina se fermi e distanza di almeno un metro. Nel contempo, tranne che in un caso, che l'attività didattica preveda la possibilità di aerosolizzazione, cioè il rischio aerosol maggiore, quindi magari il canto, quindi si canta con la mascherina, bellissimo. In questo caso è il tema scuola e i banchi e questo è abbastanza chiarito, rispondendo forse a molte richieste dei genitori stessi, degli insegnanti. A proposito degli insegnanti, sappiamo che molti dottori, medici, si rifiutano di fare il tampone di massa che stanno facendo adesso gli insegnanti prima dell'inizio della scuola, ma molti insegnanti si starebbero rifiutando o comunque esprimendo perplessità perché persone fragili, quindi impaurite dal ritorno a scuola con il rischio di maggior contagio. È una paura che chiaramente dovremmo avere noi tutti, qualcuno che ha una età maggiore della mia, qualcuno che magari ha qualche patologia, che magari lavora da mesi nel suo posto di lavoro, in privato, pubblico, dove sia, magari anche in prima linea negli ospedali, gli infermieri e i medici, ma lasciamo perdere. Gli insegnanti hanno questa preoccupazione. Il ministro Speranza dice, in questo caso, per studenti e insegnanti fragili, dobbiamo prevedere lezioni online o comunque didattica a distanza. Altro tema, il trasporto pubblico. Rispondono fondamentalmente alle richieste delle regioni, quindi i bus si possono riempire all'80%, come chiedono le regioni, e si può derogare a questo 80%, intanto mettono 200 milioni di euro per le regioni che devono trovare nuove corse per coprire l'altro 20%, ma si può derogare all'80%, quindi arrivare al 100% magari, con mascherine sempre a bordo comunque, nel caso in cui il tragitto duri meno di un quarto d'ora, e questo è un dato importante. Ultimo, mi spiegherete come il conducente, io non l'ho capito, come il conducente che sta guidando, sta attento a tutte le cose, controllerà, verificherà che a bordo ci sia l'80%, il 75%, l'85%, l'89%, non lo so, con gente che entra e esce di continuo. In una scuola in cui mancano 200 mila insegnanti, bisogna trovarli, ci sono 85 mila assunzioni previste, è complicato, c'è il problema della partenza già oggi, tra l'altro con i corsi di recupero, vedremo come va, speriamo che non si rifiutino e che le regole siano adeguate. Ciao!